Sabato 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra gli enti e le associazioni che hanno aderito con progetti ed iniziative, il Comune di Venafro che, attraverso la Commissione Pari Opportunità, ha organizzato una articolata manifestazione all'insegna della sensibilizzazione lì dove forse è più importante, anzi addirittura necessario, nelle scuole. La Commissione Pari Opportunità ha pensato di organizzare un convegno strutturato in diversi momenti per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza alle donne. Con la grande e effettiva collaborazione dell'Istituto Comprensivo Antonio Giordano di Venafro saremo presenti anche in mattinata, sempre il 25 novembre, per illustrare ai ragazzi il tema della violenza. Ma si può sensibilizzare sulla delicata tematica non solo parlando ad un uditorio, bensì anche proponendo un percorso che miri a suscitare emozioni e reazioni, come attraverso l'arte. Questo l'obiettivo del Vernissage a tema intitolato il Sottile Filo Rosso. A seguire la conferenza ci sarà il Vernissage in esposizione di arte contemporanea visiva alla quale parteciperanno artisti, fotografi, scultori, eccetera. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di celebrare la donna nelle sue sfaccettature, nella sua forza, nella sua debolezza, non tanto la visione della violenza in sé per sé, perché comunque è un argomento molto difficile e delicato. Ma abbiamo chiesto appunto una mostra agli artisti di esporre i loro lavori che parlassero proprio dell'intimo umano della mostra. La mostra si chiamerà il Sottile Filo Rosso, appunto questo filo che unisce questi sentimenti così delicati che possono essere scaturiti appunto a seguito di violenze. Abbiamo in esposizione diverse fotografie, quindi molti fotografi, delle opere d'arte visive, quindi filmmaker di video, delle sculture molto interessanti e non ultime degli oli su tela. Appunto di vari artisti, quasi tutti giovani, ma abbiamo anche dei nomi molto importanti da scuole anche famose, scuole importanti del Novecento Italiano. La mostra negli spazi del Castello Pandone si aprirà sabato 25 novembre, per concludersi il 7 gennaio. Grazie a tutti.